Allora, Lil Baby mi sembra la classica storia, classica per modo di dire, classica storia hip hop del giovane ragazzo problematico che viene arrestato, che si fa due anni di galera addirittura, per spaccio di marijuana, ma comunque due anni di galera dove aggredisce un carcerato, rimane dentro, è una storia triste, una delle tante storie tristi che possono solo finire ancora peggio e che invece poi prendono il via libera e ti portano ad essere uno degli artisti più rilevanti dell'intero globo terrestre, con la tua musica, con la tua rivalza, con le tue palle quadrate, quindi è una bella storia, quelle storie che piacciono al pubblico. Questo ragazzo, che insomma, ragazzo non è proprio più, era nel 94, ha la mia età, quindi ha 26 anni, quindi questo giovanotto che insomma è ai vertici del mondo, ha rappato con gente di spessore, insomma, Yong Tung, uno degli Yeci, si dice così, Yeci, una cosa del genere. Insomma, io non sono molto ferrato nel rap new school americano, ragazzi, io me ne intendo di musica, vi posso parlare di tutto, ma questa roba qua non la conosco, non la conosco e non la voglio conoscere, faccio questo podcast appunto per questo motivo, vi potete dare il pagliaccio, ce lo prendo, però ragazzi, a me sta roba non mi piace. Eh dai su, ve la dico così, ve la butto sul romanaccio, anche se non so di Roma, ci ho vissuto, però a me sta roba non mi dà nulla di innovativo, riconosco il flow, riconosco la tecnica, riconosco le capacità, riconosco la professionalità, ma anche questo video documentario che deve mostrare l'altro lato della persona, non ci vedo nulla di interessante, nulla di così eclatante, nulla di diverso da mille altri. Quindi cioè, allora, voi mi dite Juice Ward, ascolto i testi, ascolto il brano, dico, cazzo, mi rendo conto che questo ragazzo aveva una marcia in più, cioè non è che è diventato famoso solo perché è morto, è diventato famoso perché comunica della roba, parlavo prima di Lil Wayne, che a suo tempo ha fatto grande successo, un flow inimitabile, Pop Smoke stesso, insomma, mi rendo conto, tante cose dietro. Ma Lil Baby, onestamente, a me non mi convince, proprio lui è tutta questa fetta di rapper, new school, non lo so ragazzi, devo farmi una cultura io, ne parlo perché è giusto parlarne, sono artisti di rilevanza internazionale, e cerco di capirli, ma in questo caso non ci sono riuscito. E a me questo brano non mi piace, non mi dice nulla, mi sembra un freestyle buttato lì, non mi sembra che possa essere un brano da primo posto in tendenza USA, e invece è così. E boh, mi sembra un po' la fiera del... cioè, in America stanno avanti, si dice sempre. Perché? Perché bisogna sempre dire che gli americani stanno avanti? Sotto che punto di vista? Sotto quello dello stile? Sotto quello dell'ostentazione? Del video dove fai vedere lo yacht? Sì, allora sì, allora lì stanno avanti. Però, onestamente, io ho visto i testi di questo Lil Baby. Non mi sembra nulla di... ok, che in italiano magari perde, però... Non mi sembra nulla di nuovo rispetto a tanti altri che questa merda l'hanno fatta, l'hanno fatta bene. Ok? Cioè, la storia del rapper problematico che si rialza. Cioè, abbiamo avuto 50 Cent. Non a caso, ancora oggi, nel 2020, uno dei suoi vecchi brani è ancora tra i più influenti al mondo. Cioè, io non vedo nulla di nuovo che non ho già visto vent'anni fa. E' cambiato lo stile. E' cambiato l'atteggiamento. Però non... cioè... non lo so. Poi sicuramente Sto Lil Baby è un grande come persona, è uno che ce l'ha fatta, è alla grande insomma, un grande artista e via dicendo. Però io non ci vedo tutti questi meriti. Cioè, è successo sì, ma fino a certo punto, tutto qua.